dunque radio su cassa per EAS dunque alimentatore con ingresso fusibile presa buccola di terra fusibile batteria antena per il DAB presa usb 1 usb 2 chiavette usb o dispositivi esterni ad esempio simcarlo e roba del genere e fusibili accensione suon si alimenta la radio un giro momentaneo su inverter si accende l'inverter dunque qua c'è la presa usb per la ricarica con massimo 2 ampere la via accessione inverter la presa inverter dietro poi la presa presa per attaccare un pannello fotovoltaico per ricaricare batteria e l'antenna gps per il sincronismo dell'ora e in posizione mesco tutto per l'ora dunque due fusibili uno per batteria alimentatore quattro casse sotto le casse presentano delle griglie inverno a 500 watt onda pseudo sinusoidale 4 casse e dopo praticamente appunto suon si accende l'immigrazione della radio dispositivo per la ritenuta per spegnimento in automatico sotto 11,5 volte e la riaccensione a 12,5 connessione delle batterie in pratica passiamo a guardare la batteria relè per comando appunto di serie per connessione dei 12 volt e poi il monitor per la carica delle batterie che muove la carica delle batterie tensione e la percentuale di carica punto con giro accendo l'inverter con un colpo momentaneo diverte l'acceso presenza di tensione auto radio praticamente radio normale per chi fa gli articoli non con già gbt naturalmente cronaca secco e radio che può soltanto di cui ho fatto la barra di carica per la carica di carica di carica di carica di carica quindi ho fatto un po' lente per gestione il processore a limite grazie forse è un po esagerato musica oppure anche video come olio extravergine di oliva bio natura da 750 ml a 4,49 euro metallica metallica questo grazie per la visione 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 grazie per la visione